Sia lode e gloria a Te, Signore mio Dio. Tu sei il mio Dio, sei il mio Signore, sei tutto. Sei Padre, sei Figlio, sei lo Spirito Santo. Tu sei il Signore della mia lode, sei il Signore della mia vita. Tu sei tutto per me, Signore. Senza di Te non è possibile vivere. Tu sei il Padre, sei il Figlio, sei lo Spirito Santo, Signore. Vengo a Te, a Te mi prostro, Signore, per adorare il Tuo Santo nome. Bacio i Tuoi piedi, Signore. Afferro il Tuo meraviglioso mantello, Signore. Mi appendo alla Tua tunica affinché Tu possa guarirmi in ogni parte del corpo, dell'anima e dello spirito. Grazie, Ti rendo, Signore. Grazie, Ti rendo, Signore, perché Tu sei il Dio della mia vita. Grazie, Signore. Grazie, mio Dio. Grazie, Signore. Grazie. Sia lode e gloria a Te, Signore mio Dio. Carissimi fratelli, qualcuno si sentirà imbarazzato, qualcun altro sarà un po' preoccupato per questo titolo strano di questa crociata di preghiera. Ma voi avete visto quello che sta accadendo intorno a noi? Numerosi soggetti appartenenti ad un altro credo man mano si stanno allargando, man mano si stanno impossessando dei nostri spazi, anche delle nostre chiese, per portare avanti la loro fede discutibile, il loro credo discutibile. Peccato che purtroppo in tutto questo non c'è reciprocità. Difatti nelle loro nazioni esistono dei codici penali molto duri, con delle pene molto severe, soprattutto per i cristiani. Se per caso a questi cristiani saltasse la briga di voler convertire i musulmani. Difatti in ogni paese musulmane c'è un codice di diritto penale con una diversa numerazione. Per esempio in Marocco c'è l'articolo credo che sia 220 del codice penale che proibisce di fatto il proselitismo. È proibito fare proselitismo a un musulmano. È vero che i cristiani possono avere delle chiese in quei paesi ed è vero che hanno queste chiese ma non possono uscire fuori dalla chiesa per predicare o a pregare. E guai se lo fanno perché corrono pure il rischio di essere imprigionati in altri paesi, di essere imprigionati. Difatti in altri paesi come la Libia addirittura corrono delle pene molto più severe e chi si converte addirittura passa e passa dalla religione cosiddetta, chiamiamola noi, così come la chiamata la Boldrini, la religione dell'amore, alla religione del cristianesimo, che per noi non è una religione il cristianesimo, ma è una verità, lo stile di vita, la via, la verità e la vita, viene punito con la morte. Ecco perché io chiamo questa chiesa la chiesa degli zombie, perché sono zombie coloro che non si ribellano dinanzi a tutto questo. Sono zombie i sacerdoti che permettono che nelle loro chiese alcuni soggetti possano entrare e far pregare gli adepti di di satana nelle chiese cristiane. Nelle chiese cristiane non si possono fare messe sataniche perché il momento in cui fai una messa satanica la chiesa perde la sua consacrazione a Dio e deve essere consacrata nuovamente al nostro Signore Gesù Cristo. Non si possono adorare due padroni. Gesù Cristo ha detto io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Certo, noi rispettiamo la gente che prega. Ma chi preghi tu quando preghi? Perché noi dovremmo pregare un Dio d'amore. Noi come Dio d'amore abbiamo nostro Signore Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi per riscattare l'umanità e noi sappiamo che per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi siamo stati guariti per il sangue che lui ha sparso sulla croce. Ma tutti voi sapete che nostro Signore Gesù Cristo predicava con amore. Non portava la spada per tagliare la testa, diciamo, a coloro che non credevano alla sua parola. Non uccideva ma dava la sua vita. Resuscitava anzi i morti. Non puniva coloro che non credevano in lui ma addirittura guariva le malattie più incredibili. Anche malattie di soggetti che non appartenevano al mondo giudaico. Noi lo abbiamo visto quando ha accontentato quella mamma che faceva quella strada nelle mura di Tiro e Sidone e quando ha accontentato quel centurione che aveva il servo malato. E la morte di nostro Signore è stata molto significativa per noi perché anziché ribellarsi per quella ingiustizia di quella morte ingiusta che stava per subire ha preferito sacrificare se stesso per la redenzione di tutta l'umanità. Ed io mi chiedo ma come mai noi non crediamo soltanto a questo Dio d'amore? E come mai non ci comportiamo di conseguenza? Sappiate che nonostante questo ci sono alcuni soggetti e anche alcune donne allucinante che sono passate dalla nostra religione a quell'altra. Eppure noi abbiamo a nostra disposizione il Dio della vita, il Dio dell'amore, il Dio che ha dato suo figlio per la redenzione dell'umanità. Non abbiamo un Dio di vendetta. Sì è vero che Dio è anche un Dio iroso, geloso e anche di vendetta ma soprattutto è amore. Un amore fatto anche di giustizia. Difatti Dio ha detto lasciate a me la vendetta ma Dio è soprattutto amore, misericordia. Se ci permette di vivere ancora nonostante i nostri infami peccati vuol dire che ci ama tantissimo e non vuole la nostra distruzione. Sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo ha eliminato la legge del taglione, dell'occhio per occhio, dente per dente. Sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo ritornerà per giudicare i diri e i morti e nonostante questo ci sono persone che passano ad altre religioni oppure che non combattono per mantenere quello che è nostro, quello che è loro di diritto. Ci sono persone che abbandonano le chiese anziché popolarle ed occuparli addirittura solo perché magari qualcuno dice di lasciare la falsa chiesa. Ma noi dobbiamo lasciare i falsi pastori infedeli, non lasciare la chiesa. Sono loro che devono andare via dalla chiesa, che non si devono sentire adeguati ma siamo noi che dobbiamo guidarli. Siamo noi che dobbiamo convincerli ad andare via, così come dovremmo convincere quel parroco a Canosa che ha aperto la sua chiesa, pensate, per far celebrare la fine del Ramadan ai musulmani. Quel parroco dovrebbe sapere e conoscere San Giovanni e le sue lettere perché San Giovanni a noi ha insegnato come riconoscere i seguaci di Dio, di Gesù e i seguaci dell'Anticristo. Ci ha detto infatti che coloro che non riconoscono Gesù venuto nella carne come figlio di Dio, come redentore dell'umanità e che non riconoscono che Gesù Cristo è morto in croce per noi e che è risorto per noi, ci ha detto che fanno parte dell'Anticristo, che sono seguaci dell'Anticristo, dunque vengono da Satana. Lo ha detto San Giovanni, non lo sto dicendo io, guardate e controllate bene la seconda lettera di San Giovanni. San Giovanni dice addirittura che non dovremmo neanche riceverli né salutarli, che non dovremmo neanche parlare con questi soggetti, altro che inclusione. Eppure noi ci siamo fatti buggerare. Qualcuno dirà, ma Cristo ha detto di perdonare i peccati altrui e di offrire la guancia, l'altra guancia. Il sultano d'Egitto ha detto la stessa cosa a San Francesco d'Assisi e San Francesco d'Assisi gli ha risposto così, sì, è vero che il mio Signore ha detto questo, ma è anche vero che Gesù ha detto di non dare le perle ai porci. Eppure, eppure, ci sono moltissimi, la quasi totalità dei veggenti, che affermano che costoro, che credono in quella religione dell'amore, verranno, distruggeranno Roma, disseranno la bandiera nera in Vaticano e commetteranno molti crimini. Eppure noi continuiamo a comportarci come degli zombie, incredibile come dei satanisti possano venire ad insegnare a noi a pregare. Difatti, voi dovete sapere che i satanisti pregano moltissimo e guai se non lo fanno e se non adorano il loro demonio perché il demonio li punirebbe. Digiunano pure, fanno i digiuni satanici per dimostrare il loro amore. E il loro credo è superiore a quello nostro, perché noi ci vergogniamo, abbiamo paura a inginocchiarci e ad adorare Dio con le braccia alzate, abbiamo paura a pregare ad alta voce, abbiamo vergogna a mettere la faccia per terra, a dichiarare che Dio, Gesù Cristo e lo Spirito Santo è la nostra Trinità, il nostro unico Signore, unico in un trino. Abbiamo paura e vergogna e facciamo in modo che le chiese siano spopolate e popolate soltanto da pochi vecchi con la coroncina del Rosario e restiamo attoniti nel vedere un gruppo di persone seguaci di qualcuno che commetteva dei crimini a Medina. Leggete i libri di storia, di qualcuno che predicava con la spada, leggete i libri di storia e che ha cercato di occupare più nazioni possibili con la spada, con la violenza, con il sangue, con la persecuzione. Eppure noi dobbiamo imparare molto da costoro perché si sanno unire in gruppo per pregare e noi invece siamo divisi perché purtroppo chi dovrebbe rappresentarci è il primo a peccare contro Dio e allora che cosa dovremmo fare? Siamo morti, voi siete morti, siete come degli zombie e non vi rendete conto che bisogna combattere invece camminando come degli zombie da una parte all'altra, compiendo delle azioni meccaniche, pregando meccanicamente con dei brusii, dei brontolii, non riusciti a fare nulla. Quando io mando delle preghiere di fuoco per cercare di svegliare le coscienze, per cercare di svegliare le anime, lo spirito, qualcuno mi dice non è così che si prega perché Dio è solo amore ed è perdono e così con questo finto amore, con questa finta inclusione ci stanno occupando. Eppure noi abbiamo i salmi di Davide che ci insegnano a pregare, ma con questo oro ci stanno occupando. Anche le chiese, gli spazi nostri ci vogliono togliere, vogliono toglierci i crocifissi e tutto ciò che ci rappresenta e li vogliono togliere da tutti i luoghi in cui il crocifisso è esposto perché dicono che non è inclusivo. Ci vogliono togliere il Natale perché dicono che non è inclusivo e ci dicono che noi siamo razzisti perché non siamo inclusivi e così loro fanno quello che vogliono con la compiacenza in particolar modo di soggetti che appartengono. Io la definisco una falsa sinistra perché una vera sinistra si occuperebbe dei bisogni dei lavoratori, del proletariato, così come noi siamo governati anche da una falsa destra perché una vera destra si occuperebbe della sovranità del suo popolo, della sovranità territoriale, monetaria e invece ci stanno facendo invadere senza intervenire. Questo, perdonate questo sfogo, ma è proprio così. Siamo proprio diventati come degli zombie. E all'angelo della chiesa in Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, conosco che hai un nome, che vivi, ma tu sei morto. Apocalisse 3, 1. Vedete, Lazzaro, colui che Gesù Cristo risuscitò, aveva un problema, solo un problema, ma era un problema grosso, potente, un problema veramente gigantesco. C'era solo una cosa che non andava in Lazzaro, cari fratelli, ma come risultato di quell'unica cosa che non andava in lui? Tutte le cose che lui avrebbe potuto fare erano sbagliate, erano errate. Che cosa c'era che non andava in lui? Lazzaro era morto. Ecco perché la popolarità non conta molto quando un uomo è morto. Ecco perché la bellezza è irrilevante quando un uomo è morto. La bellezza non ha valore quando una donna è morta. I titoli accademici non hanno voce in capitolo quando una persona è morta. Il fatto che tu preghi e vada in chiesa e faccia la confessione, tu prenda la comunione, se non lotti, non combatti, sei morto. In effetti, per essere veramente onesti, tutte le cose che riteniamo importanti perdono la loro importanza quando arriva la morte. Tutte le cose che ci stanno a cuore perdono la loro attrazione quando arriva la morte. C'era un uomo di Dio che stava predicando da qualche parte in una chiesa e alcuni lo ascoltavano. C'era anche un giovane molto istruito che ascoltava quest'uomo di Dio e mentre l'uomo di Dio continuava a predicare, questo giovane continuava a guardarlo. Così, quando l'uomo di Dio finì il suo sermone, il giovane andò dritto dall'uomo di Dio e gli disse, uomo di Dio, io ho una domanda per te. Negli ultimi dieci minuti tu hai parlato del pesante carico del peccato, ma io non sento nessun peso, nessun carico pesante su questa testa. L'uomo di Dio lo guardò attentamente e gli rispose con una domanda e gli disse, se tu metti un peso pesante e sulla testa di un morto, lui lo sentirà? Lo studente lo guardò, no, non potrà sentirlo. L'uomo di Dio gli rispose, perché? Il giovane gli rispose, perché è morto. L'uomo di Dio allora disse, allo stesso modo è il motivo per cui tu non puoi sentire che stai portando un carico pesante, un fardello pesante di peccato sulla tua testa è perché tu sei morto. Cari fratelli, c'è solo una cosa che non va nelle persone nel mondo di oggi. Sono morti, non combattono, si fanno sopraffare fare di tutto perché sono morti. Questo per quanto riguarda la legge di Dio è un dato di fatto. Il mondo ha una grande popolazione di morti che si muovono come se fossero vivi, ma sono morti. È uno spettacolo comune vedere uomini morti mangiare, bere, ridere, piangere, sposarsi, andare nelle chiese. Queste persone morte sono ovunque intorno a noi. E mentre voi, cari fratelli, state ascoltando questo messaggio di questa crociata, anche noi potremmo essere morti per quanto riguarda la parola di Dio, potremmo essere morti. La Bibbia dice, conosco le tue opere, so che hai un nome, so che vivi, ma so anche che sei morto. Ciò significa che a volte, prima di iniziare a portare un cadavere nella tomba e dire, oh, quest'uomo è morto, potrebbe essere morto molti anni fa. E quanti politici sono morti molti anni fa? E quanti cristiani, sacerdoti, prelati sono morti tanti anni fa dal punto di vista della parola di Dio? Noi dunque dovremmo festeggiare il fatto che è morto, ma a volte probabilmente questo soggetto non è mai vissuto, perché la sua vita è stata soltanto quella di comportarsi come uno zombie. Ora, cari fratelli, dato che noi siamo qui, siamo certamente fisicamente vivi, senza dubbio, ma non diamo per scontato che noi siamo necessariamente spiritualmente vivi, perché se ci facciamo fare tutto questo da sacerdoti, da politici e da uomini che provengono da altra nazione e non interveniamo e non diciamo nulla, è possibile che noi siamo morti spiritualmente. È possibile che tu sia seduto qui, che stai ascoltando quello che io sto dicendo, ma che tu sia già morto e che tu sia morto molto tempo fa. Ci sono alcuni semplici segni che noi possiamo usare per capire se siamo vivi o se siamo morti. È una cosa semplice scoprire se siamo spiritualmente vivi o morti. Il primo semplice segno che qualsiasi scienziato biologo può avere per un morto è che non ha più battito, che non ha più impulsi cerebrali, ma per uno, una persona normale, si rende conto che i morti non hanno appetito, perché quando Lazzaro era vivo mangiava regolarmente, aveva fame regolarmente, ma una volta morto perse ogni interesse per tutto il cibo che le sue sorelle stavano preparando, non importava quanto fosse appetitoso. Nonostante l'aroma delizioso che proveniva dalla cucina, lui era totalmente disinteressato perché era morto. Non importava quale combinazione di cibo fosse stata messa sulla tavola, lui non aveva più appetito perché era un uomo morto. Quindi uno dei segni della morte spirituale è la mancanza di appetito per Dio, per la parola di Dio, per la legge di Dio, per la chiesa di Dio. Ciò non implica automaticamente una mancanza di appetito generale, perché tu potresti andare in chiesa senza dubbio, a pregare. Non indica una mancanza di appetito per la lode, l'adorazione. Il pregare semplicemente a Dio ripetendo mnemonicamente delle frasi è facile, è molto facile confondere la chiesa e Dio. Puoi avere appetito piccolo per la chiesa, ma non avere appetito per nulla per Dio. La mancanza di fame per Dio significa mancanza di appetito spirituale e questo di solito significa morte, morte spirituale. Sarà una tragedia se noi lasciamo questa sera, la crociata di questa sera, con questa morte spirituale che rimane. Una volta che ci rendiamo conto che la Bibbia sta diventando noiosa per noi, una volta che ci rendiamo conto che dobbiamo aprire la via, la strada ad altre religioni, pur sapendo che Gesù Cristo è la unica nostra via, c'è qualcosa che non funziona. Se troviamo la parola di Dio cominciamo a vederla noiosa da leggere e sebbene Gesù abbia detto che è più importante del nostro pane quotidiano, se non abbiamo voglia di leggerla significa che siamo spiritualmente morti. Ci sono migliaia di persone che vanno in chiesa ma non hanno assolutamente fame e appetito per Dio. Ci sono persone a cui non interessa nessuna lettura della Bibbia, nemmeno quel poco silenzio quotidiano, non sono interessati alla parola di Dio, alla realizzazione del regno di Dio. Sono morti e recitano preghiere come dei morti. Molti di loro non hanno più fuoco perché sono morti. Molti di loro hanno diverse versioni della Bibbia nelle loro case ma non ne leggono nessuna perché sono morti. Se chiedi a loro di portare la Bibbia in chiesa noterai che la Bibbia è completamente nuova a parte forse qualche preghiera nei salmi. È solo lì che confessano la vittoria sui demoni ed è per questo che è segnato magari qualche pagina dei salmi. Tutto il resto è tutto pulito. È facile saltare su e giù per l'intero posto e chiedere al pastore di predicare. Ma tu sei una persona morta perché dopo il servizio ti comporti come un uomo morto perché non hai appetito per Dio. Sei morto. Il tipo di parola che ti cambierà la vita non è il tipo di parola che senti per farti saltare di gioia. È il tipo di parola che senti e allora dovresti cadere in ginocchio e dire padre mio sono morto. Sono morto non ho più il fuoco santo di Dio. Ti prego padre rianimami nel nome santo e glorioso di Gesù. È facile diagnosticare se sei morto se sei uno zombie spirituale. Controlla il tuo appetito per Dio o la mancanza che senti di Dio. Quando è stato l'ultima volta che Dio ti ha fatto sedere e ti ha detto figlio figlia voglio parlarti e tu hai detto parla signore il tuo servo ti ascolta. Quando è stata l'ultima volta che hai letto dieci capitoli della Bibbia senza sosta. Quando è stato l'ultima volta che ti sei seduto per memorizzare la parola i versi di Dio. Trovi facile leggere la Bibbia nello stesso modo in cui leggi i giornali le riviste o i quotidiani. Oppure sei il tipo di persona che legge la Bibbia perché vuole andare a predicare da qualche parte o evangelizzare i tuoi vicini. Se tu non leggi da solo la Bibbia e non ti addentri in essa sei solo una persona morta. O stai semplicemente leggendo la Bibbia perché vuoi discutere e confrontarti con qualcuno allora sei una persona morta. È tragico che quando i testimoni di Geova affrontano alcuni cristiani scoprono che questi cristiani non hanno alcuna conoscenza della Bibbia. Alcuni non riescono neanche ad aprire il capitolo sulla fine del mondo e non sanno dove sia. Alcuni vengono addirittura in chiesa senza la Bibbia, senza averla mai letta. Alcuni vengono forniti con la Bibbia, con alcuni tipi di Bibbia che contiene solo il Nuovo Testamento e non la Bibbia completa. E vengono in chiesa senza nemmeno aprire la loro Bibbia e aspettandosi che avvenga il miracolo, la magia e perché sono morti. Ma quando Lazzaro era vivo, era un uomo attivo, ma nel momento in cui morì ogni traccia di attività cessò. Ciò accade anche a una persona quando è spiritualmente morta o quando è uno zombie che cammina. C'è una completa assenza di attività spirituale. Non saranno in grado di sottolineare una cosa che stanno facendo per Gesù. Una volta che la tua vita non è investita nelle cose del Regno, è una vita morta per quanto riguarda il cielo. E per molti c'è già un posto vacante per la loro posizione in Paradiso. E quando Dio comincia a dire che c'è una posizione vacante in Paradiso, che tu non sei scritto su quel libro della vita, sappi che ci sono veramente dei problemi. Perché tu hai tempo per le riviste, hai tempo per vedere TikTok, Facebook, Instagram. Hai tempo per guardare il calcio, lo sport, la televisione, persino i video amatoriali che adesso sono ovunque. Ma non hai tempo per vedere le cose di Dio. Puoi parlare con il tuo amico o la tua amica per ore, ma non puoi parlare, non sai parlare con Dio ininterrottamente per trenta minuti. Nel tuo cuore non c'è amore per la preghiera, mentre la preghiera è una relazione d'amore tra te e il Signore Onnipotente. Se dici di amare un uomo o una donna, puoi sederti a parlare con lei o con lui all'infinito. Con la preghiera dovrebbe essere la stessa cosa perché è una storia d'amore tra te e il Signore Dio Onnipotente. La mancanza di attività per Dio da parte tua è un buon indicatore di morte spirituale. E se sopporti che delle chiese vengano occupate da satanisti e da soggetti che con Cristo non c'entrano proprio. Nulla vuol dire che sei morto. Ciò significa che ci sono molti pastori morti e molte chiese morte piene di cadaveri umani. Non c'è consapevolezza in un uomo morto, in uno zombie che cammina. Gli uomini morti o gli zombie che camminano non amano le persone, né vedono il pericolo, il pericolo che noi stiamo attraversando. Sono impassibili davanti al pericolo, alle lacrime o al pianto. Sono totalmente insensibili a tutto ciò che accade intorno a loro. Quando non sei in grado di misurare e valutare le cose intorno a te sulla base spirituale vuol dire che sei morto spiritualmente. Carissimi, ecco le cose che sono venuto a dirvi questa sera. Vita, vita, vita. Abbiamo bisogno di vita, di resurrezione. Il luogo della nostra morte spirituale può essere individuato dalla routine quotidiana della nostra vita. Ti svegli la mattina senza pregare? Sei morto. Ti svegli la mattina senza trovare quel momento di tranquillità e di serenità? Sei morto. Ti svegli la mattina senza parlare al Signore della tua giornata? Sei morto. Ti svegli la mattina è la prima cosa cui cori è lo spazzolino da denti e il bagno. Hai tanti profumi ma non hai l'aroma dello Spirito Santo. Non parli affatto con Dio. L'unica volta in cui parli con Dio è quando fai un brutto sogno o quando sai che avrai una giornata impegnativa. Allora vuole dire che tu sei morto. Quindi possiamo riconoscere la morte dalla routine quotidiana della nostra vita. Poi ci precipitiamo in macchina o in autobus smormorando parole che avremmo potuto mormorare a casa. E allora è morte. E quando portiamo quella debole unzione nel nostro posto di lavoro senza avere quella forza dello Spirito Santo che è in noi per comunicare agli altri la potenza di Dio. Allora il nemico ci mette in ombra perché siamo degli zombie. La prima cosa che fece Lazzaro quando sentì vieni avanti fu che smise di vivere tra i morti. Noi dovremmo dunque invocare con le preghiere di fuoco. Chiunque può invocare le preghiere di fuoco. Ma se non le invochiamo con fede e con fuoco vivo per quanto riguarda il cielo saremo delle persone morte. Chiunque va con delle prostitute, illuminato o rozzo che sia, è una persona morta. Chiunque resta impassibile, indifferente, quando la propria chiesa viene invasa da satanisti, è una persona morta. Chiunque permette ad altri soggetti di violare la propria fede in Cristo Gesù senza reagire, è una persona morta. Se manchiamo di comprensione delle cose di Dio, la Bibbia ci definisce delle persone morte. Se perseguiamo delle cose che sappiamo che sono malvagie, la Bibbia ci definisce delle persone morte. Così come la giustizia tende alla vita, così chi persegue il male lo persegue fino alla morte. Proverbi 11, 19. La Bibbia dice anche che finché e usi male la lingua, sei una persona morta. In Proverbi c'è anche scritto in 18, 21, la morte e la vita sono in potere della lingua e coloro che l'amano ne mangeranno il frutto. Certo, se pronunziamo parole negative distruggendo la fede è chiaro che mangeremo un frutto malvagio. quando rubi per arricchirti e dici bugie per arricchirti e puoi vendere il tuo corpo per arricchirti, la Bibbia ti dice che sei una persona morta. Acquistare tesori con una lingua bugiarda è una vanità sballottata qua e là da coloro che cercano la morte. Proverbi 21, 6. Quando hai uno spirito familiare, uno spirito della stregoneria o sei il membro di una loggia dell'occulto, per quanto riguarda la Bibbia sei una persona morta. Quando tutto ciò a cui pensi è solo cosa fare per ottenere denaro, per diventare ricco e come accumulare ricchezza, sei una persona morta. La mente carnale è morta. Puoi avere una mentalità carnale, ma sei una persona morta. Ma avere una mentalità spirituale è una via per la pace. Romani 8, 6. Sfortunatamente, se questa morte non viene arrestata, allora la morte finale che è in Apocalisse arriva e sarà quello il punto in cui la persona finirà. Apocalisse 20, 14, 15. E la morte e l'inferno furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte e chiunque pastore, uomo, uomo, donna, non fu trovato nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Qual è l'implicazione di ciò? Molti cadaveri viventi vanno diritti verso la seconda morte. Se vivi con qualche peccato conosciuto adesso, sei morto o sei prossimo alla morte. Per cui, questo è il motivo per cui molte persone diventano facile preda del nemico. Una volta che la tua anima è nel campo di Satana, sei morto. Quando pecchi sappi che Satana diventa il padrone ed è lui che distribuisce la morte. Allora che cosa dovremmo fare? Dobbiamo sederci, meditare e pensare, ma noi, ma io, sono veramente vivo? Sono rinato? Mi comporto come un cristiano vivo, vero? E allora perché sopporto questo male? Perché non intervengo spiritualmente per fermare questo male che si vuole accanire contro la mia chiesa? Ma c'è un risveglio nella mia anima? Sono migliorato rispetto a com'ero l'anno scorso? Sto permettendo ai nemici di dettare il ritmo delle mie preghiere? O sto pregando perché veramente voglio la potenza di Dio in me? Ecco, queste sono domande che noi ci potremmo fare per capire se stiamo, se ci stiamo comportando come degli zombie. E allora preghiamo insieme nostro Padre affinché chiediamo Padre, Signore, Dio Padre Onnipotente, spezzaci, spezzami, riplasmami nel nome santo e glorioso di Gesù. Padre mio, spezzami, riplasmami nel nome santo di Gesù. Padre, tutte le virtù che il peccato mi ha rubato, fa che io le possa recuperare nel nome di Gesù. Padre, ti prego, alzati, ravvivami, Signore, che io possa testimoniare, portare la Tua parola dappertutto. Nel nome santo e glorioso di Gesù. Padre, Padre, porta la vita, vita santa alla mia preghiera. Fa che io riceva il fuoco santo, fa che veramente io possa far rivivere il mio corpo, la mia anima e il mio spirito. Fa che io possa credere ciecamente che per le Tue lividure noi siamo stati guariti. Fa che io possa credere che tutti i 39 colpi che sono caduti sul corpo di Gesù siano guarigione per tutte le mie malattie, per tutte le mie infermità, per tutte le mie infedeltà. Nel nome santo e glorioso di Gesù. Amen. 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 Che Dio ci benedica tutti. Amen.